Ciao a tutte ragazze, oggi ho voluto fare questo video di trucco per voi questo trucco è molto molto semplice da realizzare, come la maggior parte dei trucchi che faccio e soprattutto sono rimasta contenta di questi due prodotti della Kiko rispettivamente sono queste due matite la prima è verde e l'altra invece è più tendente al blu violaceo quindi sono queste, ve le faccio vedere bene hanno addirittura il temperino dietro infatti in questo video vi farò vedere anche come uso il temperino che è molto semplice alla fine da utilizzare praticamente tirate fuori la parte di dietro ed è direttamente il temperino piccolino ve lo avvicinate e iniziate a temperarlo come se fosse veramente un temperino per le matite quindi queste matite mi sono venute a costare veramente poco rispetto comunque alle storite della Kiko perché erano in promozione in questo periodo stanno facendo delle promozioni sugli smalti alcune addirittura sulle matite però sinceramente quelle che costano pochissimo ovvero sui 2 euro non le prendo perché secondo me non sono abbastanza valide cioè non li valgono neppure i 2 euro le ho provate sono le solite matite quelle colorate che però sono abbastanza dure e non mi convincono quindi sicuramente non le prendo tra l'altro questo colore violaccio assomiglia moltissimo al mio top che ho qua addosso oggi comunque i colori che utilizzerò per questo trucco sono prevalentemente queste due matite e poi partirò con una base di una matita molto semplice, nera, normale, proprio semplicissima della Deborah che è questa, questa costa 1 euro e 40, una cosa del genere massimo sui 2 euro quindi queste sono le 3 matite che userò per questo video perché ho usato quasi prevalentemente matite invece per quanto riguarda gli ombretti ho utilizzato degli ombretti di questa palettina piccolina della Essence che se non avete ancora comprato ve la consiglio tantissimo perché sono dei colori fantastici vi faccio vedere praticamente c'è questo colore qui che è sul bianco, questo che è sul pesca poi andiamo sul rosa, poi sul giallo e poi vi faccio vedere anche questi altri due colori che sono rispettivamente verde e poi blu sono dei colori super scriventi come vedete appunto sulle mie dita sono super scriventi sono belli e soprattutto se li abbinate a un pochettino, una goccettina di collirio sono fantastici ho utilizzato di questa palette il pesca e l'altro colore, questo qui chiaro chiaro quindi sul bianco e poi ho utilizzato il mio blush della Deborah, mio solito che non sta ancora finendo, c'è neanche abbastanza anche se vedete il puntino e poi per quanto riguarda invece il rossetto ho utilizzato questo qui bellissimo questo colore qui sul rosa della Estelauder, come si pronuncia? i mascara, allora i mascara colorati ragazzi dovete prenderli perché sono fantastici allora io ne ho un bel po' di mascara colorati e sono questi qua quello che utilizzerò in questo video è questo, prevalentemente è questo quindi sul blu elettrico della Essence basta mettere anche un po' di mascara, una matita colorata o anche una matita nera è il mascara colorato che è perfetto poi quest'altro colore qui che è dell'Astra ed è un colore un pochettino sul blu scuro più sul blu scuro, userò anche questo in questo video e gli altri invece colori che non uso in questo video però sono questi due della Kiko sono un pochettino più tenui rispetto a quelli della Essence che tra l'altro ha fatto anche di colore sul violaceo, rosa e poi mi pare anche sul giallo quindi secondo me sono tutti da testare, assolutamente poi cos'altro ho utilizzato in questo tutorial? ho utilizzato la mia base, rispettivamente la cipria matte della Essence e poi la New York Matte Natural del fondotinta come vedete li lascio veramente belle anche la pelle come notterete e comunque il trucco è questo allora spero che vi piaccia e soprattutto non mi voglio dilungare ancora a voi il tutorial, un bacione, spero vi piaccia eccoci qua, allora prima di tutto ho messo il mio siero, questo qui piccolino della Skin & Co che avevo già, che sto mettendo praticamente tutti i giorni siccome ho due campioncini li devo finire comunque i testati sono perfetti ragazzi rendono la pelle veramente liscissima ed è come mettere una crema allora adesso iniziamo subito ho cambiato i miei dischetti, sto usando questi adesso di spugnette che sono diciamo di una forma diversa allora iniziamo subito e metto il mio della New York Color il fondotinta allora metto un po' di prodotto come al solito e metto un po' di prodotto per questa stimola come vedrete ho dei punti un pochettino più critici ovvero due bel paio di occhiaie qui perché non sto dormendo tantissimo e in più sto lavorando tanto e poi questi due brufoletti che mi sono venuti la stimola scorsa quindi prendo il mio correttore e inizio ad elinare questa parte qui delle occhiaie e poi i due puntini e poi spargo picchietto anche questa parte qui del correttore è meglio sempre picchiettarla eccoci qua diciamo che va molto meglio si notano molto di meno le occhiaie e adesso passo giusto un velino di cipria ma giusto poco iniziamo subito mettendo la nostra base ecco qui e adesso prendo dalla mia palettina piccolina della Essence con questi bellissimi colori prendo il color pesca con il mio pennellino accendendo e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile prendo invece l'altro colore affinato sul bianco sul bianco e lo vado subito a mettere come illuminante sopra senza fare senza usare altri colori usando solamente questi due adesso mi armo di queste due matite della Kiko che non ho ancora utilizzato con voi e sono rispettivamente verde e blu anzitutto hanno il temperino dietro eccoci qua e lo stesso vale per l'altro colore apro è praticamente un blu violaceo questa qui della Debbie nera e la vado a mettere molto 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 sottile grazie a tutti Grazie. E faccio anche la virgoletta, però allo stesso tempo con un pennellino da precisione andremo a sfumare questa virgoletta qui. In questo modo, però ovviamente così è molto grossolano, adesso andremo ad intensificare tutto. Allora, prendo anzitutto il mio colore verde come primo colore e lo metto sopra la linea nera. Il colore verde, un pochettino più sopra, metto il colore blu. In questo modo. Allora, siccome funziona anche all'interno dell'occhio e funziona anche molto bene questa matita, all'interno metto quella blu. Poi un po' all'esterno. metto la verde. Praticamente i pedaciglia. Vedete che ha veramente un bel effetto questo trucco. Allora, ho queste due opzioni, ovvero sempre sul blu elettrico. prenderò questo qui della Essence Nuovo, quindi è la prima volta che lo uso con voi. Blu elettrico elettrico. Guardate, non so se si nota molto. Comunque, adesso vi faccio lo zoom. Spero la notiata bene perché io la noto benissimo. faccio lo zoom. Faccio qua. Adesso invece metto questo, che è il dell'Astra, sempre colore blu, però è colore blu più scuro. lo metto sulle ciglia inferiori. Il mio blush della Deborah. In barattolo della scelta, come al solito, io decido stavolta questo qui, di 16 candy della Estée Lauder. Ecco qui molto meglio. Allora ragazze, il trucco è finito. Spero tanto che vi sia piaciuto e alla prossima. Un bacione. Mua! Ciao!